È un grande giorno per l'associazione socioeducativa Ragazzi on the road di Bergamo, è vero, sì. Ripartiamo da Bergamo dopo dieci anni, dopo quella indimenticabile esperienza vissuta allora, con l'allora questore, con le istituzioni, proprio nel centro di Bergamo. Sono trascorsi diversi anni, il progetto si è espanso in quattro province, abbiamo coinvolto circa 800 ragazzi in questi 15 anni. 15 anni sono trascorsi da quando il progetto si è avviato sulle strade della Valseriana, nell'allora Consorzio di Polizia Municipale Valseriana, grazie all'incontro con l'agente Giuseppe Fuschino. Bene, a distanza di anni, dopo tutta questa strada percorsa insieme a questi ragazzi, siamo qui insieme al comando della Polizia Locale di Bergamo, il comune di Bergamo, a firmare una convenzione importante che permetterà a quattro ragazzi di poter vivere durante due weekend in città, appunto, l'esperienza nei panni della locale di Bergamo, che ha tanto da insegnare, che ha tanto da trasmettere a questi ragazzi. Un'esperienza che li renderà protagonisti, un'esperienza di coesione sociale, un'esperienza che permetterà loro sempre più di accorciare le distanze e di rendersi conto in prima persona di che cosa ci sta, appunto, dietro alla divisa e soprattutto per infondere consapevolezza, prevenzione e sicurezza. Sì, e io credo che il vero aggiunto di questa iniziativa stia nel portare dei giovani della nostra comunità a contatto con una realtà che esiste, che è quella della Polizia Locale, che è impegnata su tanti fronti. È stata impegnata tanto anche sul Covid, nei controlli, nell'osservanza delle regole Covid, ma non solo. Il fatto di conoscere l'esperienza che sta dietro alla facciata, alla divisa, le persone che indossano la divisa, uomini e donne, che si impegnano a servizio della comunità, penso possa essere utile a comprendere meglio la realtà nella quale questi ragazzi vivono, la comunità alla quale appartengono, essere consapevoli dello sforzo che tanti mettono nel garantire la sicurezza e nel soddisfare i bisogni della nostra comunità e quindi portarli anche a superare qualche diffidenza che a volte si manifesta soprattutto tra i più giovani nei confronti delle divise e che purtroppo origina anche qualche fatto a cui abbiamo assistito anche in queste ore. Quindi portare queste due esperienze a contatto aiuta da un lato i giovani a maturare e dall'altro comunque secondo me è utile anche ai nostri agenti, ai nostri ufficiali che hanno spesso a che fare con i giovani, ma qui ne vedono un volto diverso, un volto di qualcuno che si mette a propria volta a disposizione della comunità per fare un'esperienza utile alla propria crescita e anche a dare una mano se serve e questa collaborazione credo che sortirà ottimi risultati. Sì, finalmente ci siamo, abbiamo aspettato un po' ma sappiamo che è un'esperienza impegnativa ma contiamo che sia veramente un'esperienza bellissima per i ragazzi che potranno partecipare al progetto ma anche per gli agenti di polizia locale che potranno trasferire a loro cosa vuol dire fare l'agente di polizia locale. È un'esperienza a cui invitiamo tutti i ragazzi dai 17 ai 20 anni che è impegnativa perché richiede una partecipazione e un rispetto degli orari, delle regole che la polizia locale ha ma potranno vivere in prima persona quelli che sono tutti gli aspetti del nostro servizio che vanno dalla polizia stradale alla polizia commerciale, dall'unità cinofila all'unità mobili di quartiere alla centrale operativa. È veramente tanto perché sappiamo che la cittadinanza comune conosce solo un aspetto della polizia locale che è quella di elevare le sanzioni al codice della strada ma dietro veramente ci sono tanti servizi che noi svolgiamo per la tutela della nostra città e dei nostri cittadini. Sono Luca, ho preso parte all'esperienza on the road a Livigno quest'anno, quest'inverno ed è stata un'esperienza fantastica che davvero ti può cambiare, ti mette di fronte alla realtà a fianco alle forze di polizia, quali pompieri, vigili del fuoco appunto, polizia locale è un'esperienza che consiglio davvero a tutti perché ti può davvero cambiare. Cambiato sicuramente il mio punto di vista rispetto alle forze dell'ordine prima viste sicuramente come quelle che davano le multe ma adesso abbiamo scoperto tutto un mondo grazie a on the road è un'esperienza che consiglio anche per questo.